Non ci sono parole, non ci sono parole. Allora, adesso parlate di un momento molto importante e tradizionale del secondo cerchio, cioè la presentazione dei musici che hanno visitato questa bellissima serata. Vi presento uno per uno e si verificano un grandissimo applauso, e ci sono due donne, eh? Allora, iniziamo con il fatto. Io volevo vedervi, che almeno magari è possibile vedere tutti, che alcuni sono nascosti. Ah, è vero tanto, questo po' non c'è problema. Allora, iniziamo con i passi con Mariangela Patrone, Giulio Intento Ferrello, Marta Ponegara, e Susanna Boggio. E loro, iniziamo con i passi con i passi con Marco Guerrino, Marta Ponegara, Marco Guerrino, Marco Guerrino, Marco Guerrino, e protectsänico palarcos and work levezza, placutata 2011 ch peacefully che miro la patta, quaalto Quattono, Infrasticheиля, e quindiאת harti quello che dicevaREXK e ci sono un nuovo capo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.